no salve a tutti siamo video games anonimi io sono c'è in gioco 7 10 e sto scottando serra come c'è team ciao a tutti e niente siamo arrivati già al quarto episodio io direi di cominciare lui mi ha inculato la terra vabbè e qui è così in questo video cercheremo di completare gli obiettivi che c'è io ho l'altro miniera e magari abbiamo letto perché perché notte ok basta dai vai letto dopo la nostra notte notte amorosa cosa hai messo qua che schifo è come spiegari france ben lì schifo la merda allora vuole bellino 3 testo la merda o c'è uno scelto con arco potenziato da che l'ammazzo tanto un teatro aia io ho fatto fuori aia ora muoio ora muoio quando vuole il mondo fuori altro di buono a freccia dove dov'è 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 domani voglio no e non mi ha trovato cane a zucchero grande e piantiamo lì vicino a al grano si fa da un'altra parte di vicino al grano le piccole anche ormai aveva rato allora mi tocca sentarci su spadino torce poi ma poi ti festisco ma piccone di ferro mi la ricorda il diamante non si sa mai e è cresciuto cacao si no era l'affermazione non era una domanda ah ma la palla parla italiana parla come un'immagine le nostre peziosi invece ah 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 cani da zucchero preziosissime per fare la san shanty che ora il libro non si fa neanche più con con la si fa con la pelle e anche con la pelle ci vuole con le incidenti io lo prendi io bastardo è la mia piantagione vieni qui vieni qui colpi concini di ferro eh bastardo si è io mani nulla e che colpi concini eh perchè lui si sente potente zitto zitto allora qui che c'è poi che si fa acqua che c'è patate carote sacco di roba dove stavano i carote eh nei villaggi si di buono il seme di carote esiste eh spacchia la carota e ti viene la carota che la più piante ma ho fatto l'affare a modo a 10 due che fa me lo copre cosa hai fatto a 10 un aspetto ecco c'è la lava eh mo' se c'è la lava no non c'è la la coperta perché è piena di lava è meglio se c'è la lava mo' se c'è la lava mo' se c'è la lava mo' se c'è la lava muori resto spero muori scolta mi chiamo filippo sanzoni e io sei un imbecille non so tanto si taglia si ma c'è da mattici per nulla te ne frega te zitto lapislazuli 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 lapiscazuli lì coi di idea nostro caro yuk i 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 ma sai che c'è io mi vado a costruire la mia casina ecco ecco perchè bambino piange ho trovato dell'altro ferro i ma la posta è chiamata posto il ferro ci posso posto posti qua sono incredibili è già cresciuta una di cosa cacao non si fa niente che ci fai? niente il corona colorante qualcosa così non ci fa niente no proprio nulla no qualcosa ci si farà vedrai se lo sapete iscrivetevi nei commenti perchè vedrai che viene la roba marrone per regola oro 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 se è di loro amore che si si cosa facciamelo dorate paulo ecco se andrà ammazzare il drago del land non non il 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 9 il 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 sire la morte per favore no oggi è stato la sera trovata un po si arriva cercando a dare la bu vado alla prossima buca porto tazio ha fatto una crescita tritfa di città si mette le fatti intorno alle casse se non si può se c'è affare c'è affare cito vado c'è un secchio c'è anche il secchio amante che mostro chi mostro guarda questo prendi 2 diamanti 3 diamanti o almeno si fa qualcosa un bel piccocino di diamante per lo stiamo per fare portare la programma all'attività nel secchio c'è il segno non ce l'ho io sì sì n sono la cesta allora ti apprende vieni il secondo io non posso la cittura di mucca sono lontano e che sono lontano scone con il con i secchi di ravi si può bruciare le cose tipo se te lo metti nella fornace l'interno mi sto per fratturare la piccola colmo all'euro no si impalla bellino non posso non posso non posso non posso non posso non posso io ho il risultato il tema scottante non posso t si palla o macchina io ci facciamo si chiudino chi ci fa un maiale baggazzo dentro un albero e poi ci facciamo un altro secchellino no maialino ci salvo io no che ora la mozzarella ci serve si è dentro un albero eh spacchi l'albero si della foresta eh casca se casca cazzo sua senti io in quest'albero mi ci devo fare la casa a me non me ne vedo un cazzo del maiale ok infatti ora lo faccio fuori non lo fa fuori ecco dov'era qui si è morto 1 2 3 ho cascato 3 secchi di lava 2 guardi bel posticino allora la prossima aiutate un po' si stai zitto che ce la fa scusa la strada con minerone puttana c'è uno zombie ah mi fa cascare 4 4 si castiglava con il diamante il giudice picchio è morto è morto lo zumbaccio si è anche meglio ma io non so ok questo si può spaccare e vai un diamante è un piccone si ecco il ferro mi fa paio di forbici no si che c'è con le foglie dei diamanti ferro perchè non possiamo un po' ok andiamo a vedere che c'è in questa minirona grandissima wow ok andiamo a vedere che c'è in questa minirona grandissima sì che ci serve questa cosa no non c'è fare niente è una cosa inutile solo per fare meccanismo e rincio un po' ok basta così qui c'è niente qui c'è niente qui c'è niente oh tipo a notte io sono a mezzo a ah aiuto ho torna su torna su prima che picchio se perdi tutto come ti picchio figata una zumbaccio aveva preso a mano la sua carne marcia che hanno tutto anche le spalle soprattutto le spalle wow guarda questo qua simon c'è da mangiare io c'ho nulla aspetta robota non piccola figo figata pazzesca butta una spada di amate si succhiamano no 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 perché dopo si dice bravo eh mi rida mi rida piccone dai dai no wow non sapevo questa cosa si vede la spalla di amate per anticipi che con la spalla di amate eh quello è ovvio wow quanto dove sono andato a finire te lo dico già torna su da casa no perchè devi stagione la miniere notte eh se è notte qua come il prossimo giorno la pen di lava io voglio dormi aiuto 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 oggi sto bruciandone la lava sto bruciandone la lava ariana 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 anzi vedevo no c'è uno di ferro pezzo mi sento molto il suo pericolore ariana ma chi ti vede il tuo nome poi sono nella mia casa ecco le torna la nostra no sì mi devi dire mi devi dare la via di uscita la mia casa si è dominata capito potrei anche fratturare le caviglie della mia casa le capite tutto il corpo costituendo sale devi dire la via di uscita e ora arrivo 4 ore abbiamo un po' di oro qua c'è un po' di oro qua c'è un po' ecco volevo fare il cattoletto tu mi stanno ammazzando mi sa che ci muoio qui ho fatto il letto su un pila no 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 corri corri o che cazzo io invece c'è un po' muoio maia puttana adesso mi sta la gana anche perchè vedo giorno ah non ma mazzare no no bene ma non c'è la sua poste stelle se mai tassi se mai tassi piccato mi ti posso dire coordinate 2 il numero allora meno 269 e 62 269 269 madonna sono in crisi se ci muori ben marzo allora 269 sono bravo guardami ferri del mestiere come sono simpatici diamante 2 qui non mi fido tanto ma un po' quando siamo nel video perchè se muoio il bestimetro lo dico diciamo siamo a vi avverto ragazzi 16.5 aia porco ci help me se c'è un cuore e mezzo se muoio ma raggiungi una spalina no con il cuore giugici e ciò più nulla per tutto se morto ecco la vita ありo mi sto ora è uno scherzo con su arco di merda al sicuro a io sono morto un'altra volta c'è un'altra cosa ma con il quale così veloce stile non so come mezzo di chi ma non c'è fatta nessuno no non cuore e mezzo anche voi ci sono le mezze dice fatta nessuno no perchè c'è ancora in mezzo ho trovato gli slime comunque comunque prendili perchè ci danno gli slime prendili una parolona perchè c'è ancora in mezzo e ora mi sa che muoio se non torno su un muoio quindi a prenderli facciamo mi vedi ma chi ti vede c'è qui da certo ma si sono fuori di casa arrivo da mangiare treccia sta arrivando sto scendendo 26 6 se mi vedi il mio nome è accettato ti vedo ti vedo testo monoli ma mi sto scendendo non scende stacendo dove devo scendere in fondo atti se buono dimmi dove diamo dati a concontro metto visibilità ocean ppistrello ma massa ppistrello ok ho trovato la redstone che non hai preso lo vedi il mio nome che ha trovato la lava dovresti essere da qualche parte si ecco la caverna e te sei sei andato in su o in giù no son vicino son vicino ferro 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 che sei buono lì guarda un po' di rapislazoli questa minera qui è ricca stai fermo che fai ti sta allontanando sto prendendo un po' di ferro si ma rimane dove rimane dove sei eh sono qui è c'è anche dell'oro monopus prende ma che sto andando chissà dove dai ci si fa guarda un po' quanto il video noi saremo 16 17 ok se sono superficie costo 20 sto vedendo amico mio ho dovuto vedere il mio nome non so non so per non 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 abbiamo 4 diamanti e basta e io era moglie perché muovi di fame dove dove cavolo sei sono qui accanto a te e allora andiamo guarda che casa è qua dove andiamo è qui ah ok dove sei io non ti vedo te ne ti preoccupo c'era lo spazio libero nell'inventario aia se non so che ma chi mi ha colpito aia aia su quelle scale ecco addio mondo crudele ah ma su per le scale si va su per le scale aria lì io sono già sono sempre qui dentro allora ci vado ci vado io ma lascia vai ci vado io ci vado io sarà mia tutto il bottino è mio oi dai 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 fermi l'esperienza oi oi o o mi sa che ci è rimasto qualcosa torna un po' giù ti anni ti sgutorò poi ci stoppa l'episodio ok ok io raga torno su e allora c'è il viso posto steve posto tu mi stimo tu amici stanno stituto albetti quanti c'è lì di piccoli stessare tu non sai questo ottimo 1 dai modi tra ci sto scontando tutto ma c'è c'ho scottato un po' di oro qual'è la ricetta così per cui stacca coso ma lo betta ticciola la mia ora raga si stoppa finisce il video entra dentro e io sono ricco boh ciao a tutti per questa serie per questa puntata è finita ciao mi piace e iscrivetevi ciao a tutti ciao